Quando qualcuno sta scrivendo a Venezia su un muro o su una parte importante, nessuno si può voltare indietro. I volontari dell'associazione Onlus Masegna e Nisioetti non solo puliscono gli imbrattamenti che deturpano Venezia, ma aiutano anche a trovare i colpevoli. Quanto è accaduto a metà maggio alla facciata della Basilica del Redentore è infatti solo la punta dell'iceberg di una città sempre più presa di mira da writers provenienti da mezzo mondo, protagonisti di una corsa all'imbrattamento che spesso ha di artistico solo la rapidità di fuga degli autori, a meno che... La nostra associata alle 23.45, zona lista di Spagna, ha visto un writers in azione davanti alla gente tranquillamente. Gli ha fatto una foto, delle foto ce li ha inviate, noi naturalmente le abbiamo inviate con il nostro presidente alla Polizia Municipale e alla Polizia. Fedele al detto, secondo cui il colpevole torna sempre sul luogo del delitto, quello che poi si è scoperto essere un graffitaro new yorkese da 130.000 follower su Instagram è stato riconosciuto il giorno dopo, nello stesso posto, dalla stessa associata di Masegna e Nisioetti, che lo ha prontamente segnalato a due agenti della Polizia Municipale. Al sedicente artista, che non pago aveva anche tappezzato la città di suoi adesivi, non sono arrivati né i complimenti per l'opera né un invito ad esporre alla Biennale, ma l'unico riconoscimento possibile per questo genere di imprese, una denuncia. Ci sono dei tour proprio fatti apposta, tour vandalici di questi writers, che non chiamo neanche writers, ma imbrattatori seriali, che vengono apposta nelle città e fanno il danno in 3-4 giorni che si fermano. È successo con dei russi che sono già stati presi, sempre grazie ai nostri associati che hanno fatto queste denunce e anche ad altri.